Dopo oltre otto anni dalla nascita di Fratelli d'Italia, Pierpaolo Signore l'assegna le dimissioni dal ruolo di coordinatore provinciale del partito. Esigenze familiari e lavorative, scrive in una nota, non mi consentono di dedicare in questo momento un adeguato impegno in un partito come il nostro che è cresciuto come nessun altro in questi anni. Ringrazio tutti i dirigenti, militanti e quanti hanno intrapreso con me questa entusiasmante avventura, seppur fra mille difficoltà e tante avversità, ma sempre mantenendo viva la fiamma della coerenza e dell'onestà. Se il tempo in questo momento è per me tiranno, la passione e l'entusiasmo restano intatte e per questo posso assicurare i tanti amici che mi sono vicini che non verrà meno il mio apporto laddove vi siano da fare battaglia in difesa dei nostri valori e della nostra terra. Ringrazio, continua Signore, Giorgia Meloni per aver creduto in me fin dall'inizio e mi auguro anche che nei territori il partito sia in grado di interpretare al meglio l'azione politica che il nostro Presidente conduce in modo esemplare a livello nazionale. Auguro ancora che venga scelta la migliore figura commissariale possibile a rappresentare il nostro territorio e che possa guidare il partito nella fase congressuale che verrà, conclude per Paolo Signore.